Sono cominciati ad Oltre Fiume a Baveno i lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede e della passerella pedonale, quasi 300.000 euro di un intervento che la frazione aspettava da tanti anni. Sì, assolutamente sì, perché questo punto è molto importante per la nostra città perché collega l'autostrada con la parte alta di Baveno. Tantissime persone la fanno a piedi per andare verso Ferriolo e viceversa, e quindi c'era bisogno di fare un bel marciapiede che si collegasse con l'esistente e nella curva che è abbastanza stretta fare una passerella di acciaio che arriva in un parcheggio che si collega poi col camminamento verso Ferriolo. Quindi abbattimento di barriere architettoniche, messa in sicurezza per i pedoni, un intervento importante che è però in linea con gli interventi che stiamo facendo in tutta la città. Soprattutto anche più sicurezza per, come diceva prima il sindaco, per le tante persone che a piedi transitano su questa via. Assolutamente sì, qui si va verso Ferriolo. E soprattutto nel periodo estivo tanti da Baveno Alta vanno verso Ferriolo per farci una passeggiata, oggi che si collega con Verbania, e quindi credo che sia un intervento assolutamente importante per la città, per la frazione, di messa in sicurezza e anche di abbattimento di barriere architettoniche. Noi ci teniamo particolarmente, siamo Bandiera Lilla, penso che siamo stati il primo comune nella regione Piemonte ad avere questo riconoscimento e in tutte le opere che facciamo è un focus su cui noi mettiamo attenzione sempre. Il cronoprogramma? Ma durerà circa tre mesi, ovviamente vediamo il tempo com'è, però insomma è un intervento che ha vinto, la ditta frua, la ditta che ha già lavorato a Baveno e che conosce benissimo la città e il progetto, quindi siamo abbastanza tranquilli, speriamo che il tempo ci aiuti e che l'opera venga fatta. Speriamo di finire verso marzo, insomma, in modo che quest'opera qui, l'apertura dello svincolo, insomma, mettiamo in sicurezza una bella zona della città, che è fondamentale in uscita e in entrata.